Si chiama Animal Lido e sorgerà dove un tempo c'era la spiaggia dei cani, ma non avrà nulla a che vedere con ciò che fu. Quello che sarà allestito qui sarà un vero e proprio paradiso per i cani e i loro conduttori. Un'opportunità anche dal punto di vista turistico ed attrattivo, dato che questa possibilità può sicuramente rappresentare un motivo di preferenza rispetto ad altre destinazioni balneari che non hanno una struttura dedicata agli amici a quattro zampe. Una bella opera che va a migliorare questa parte di spiaggia, questa parte litorale, ma si dà anche una bella risposta a chi è amante degli animali con una struttura di qualità, accogliente, ben curata e quindi che si può conciliare tranquillamente anche con le altre parti della spiaggia. Corsie in acqua delimitate per il bagno in sicurezza, uno sgambatoio recintato dove i cani possono scorazzare in libertà, ma anche strutture e box adeguati alle loro esigenze. Ci saranno due capanni centrali dove al suo interno ci sarà uno ad uso di ufficio per la gestione dello stabilimento e in un altro un bar enogastronomico per accogliere al meglio i turisti e i residenti che ci verranno a trovare con il proprio animale da compagnia. Oltre che poter stare in compagnia del proprio conduttore, per i cani ci sarà una vera e propria equip di esperti che ha in serbo anche diverse attività, mirate proprio loro. C'è una programmazione già con tutte delle attività giornaliere e delle attività mensili, con un gruppo di educatori cinofili che si chiamano Brand Collaboration e che collaboreranno l'accoglienza al meglio dei turisti o dei nostri clienti. Spesso e volentieri, prima dei cani andrebbero educati i padroni, ma non potendo sempre garantire questo, personale specializzato e cani al guinzaglio, sempre, e reti di recinzione, saranno la garanzia di sicurezza anche per chi percorre in passeggiata il bagnasciuga nelle assolate giornate estive. Chi vuole acquisire informazioni su questa nuova opportunità come fa? Attraverso il nostro sito internet www.animalido.it dove si troveranno tutte le informazioni dettagliate per la spiaggia degli animali.